benvenuti sul mio canale tutto dal web state comodi ascoltate bene il video perché questa è un'anticipazione molto particolare e sì perché moosh gun finalmente toglie i prosciutti dagli occhi e quindi decide di chiudere il rapporto con la zia beige ma vediamo nei dettagli che cosa accadrà nelle prossime puntate in modo particolare nella prossima settimana finalmente verranno ritrovati i soldi di il mas che aveva nascosto prima di lasciare la città con zuleyla beige musgan rimarranno deluse quando apprenderanno che l'unica in grado di rivendicare questo denaro è proprio zuleyla perché è stata lei ad acquistare il terreno dove erano nascosti i soldi zuleyla inizialmente penserà di avere di dare questa eredità al piccolo crema lì ma poi però farà un passo indietro a causa proprio di beige zuleyla infatti verrà a scoprire che cittin e gulten sono stati sfrattati da musgan proprio per consentire a beige di trasferirsi alla villa che apparteneva proprio a il mas e sapendo ciò anche ali ramet si rifiuterà di aiutare musgan quando le chiederà una mano per poter recuperare il deraro di il mas fecheli però confesserà musgan che il mas ha lasciato una grande somma di denaro per il piccolo crema lì che però entrambe sia zia che musgan non potranno toccare così la zia beige si infurirà quando scoprirà che non può attingere al fondo del piccolo che remali perché è stato bloccato fino a quando il bambino non compirà 21 anni la dottoressa rimarrà sconvolta dalla furia della zia così deciderà completamente di chiudere tutti i rapporti con lei mentre ali ramet gli dirà che potrà sempre contare su di lui